Bello, molto bello la dinamicità della gara proprio. Entra in pedana Lorien D'Ambrogio, altra giovane ginnasta della ginnastica Fabriano. Per lei, primo attrezzo di quest'oggi, le clavette. I'm not, why are you here to try to escape, my dear? You've been partying, I'm grown, by trying to steal something of my gold. I have no idea why I have been dead down here. I know what you're talking about, and sure there's no reason to shout. I saw a prodigy to speed. Hey, my own, I surrender, surrender. I have no idea why I ask for what you're most part of the world. Hey, my own, I surrender, surrender. Hey, my own. Grazie a tutti. Sì, peccato. Abbiamo visto purtroppo due perdite, questa sul finale e un'altra sempre su un rischio. Peccato perché Lauren è proprio una giovane ginnasta molto bella e sicuramente molto futuribile. Peccato per questi due errori che vedono la mancata.